Sono 262.000 in Veneto i contribuenti immigrati che hanno versato l'IRPEF nel 2016. Seconda in Italia, la regione Veneto vede sul podio la città di Treviso, seguita da Verona con un'incidenza del 10,4% di contribuenti stranieri sul totale. Quello che emerge è quindi il ruolo fondamentale che giocano questi ultimi nella ripresa economica del nord-est. Qui i contribuenti stranieri aumentano di più rispetto al dato nazionale, con un incremento del 3,1% rispetto all'anno precedente. Rilevato da una ricerca della Fondazione Leone Moressa di Venezia, il dato segna quindi anche un miglioramento dell'integrazione degli immigrati che lavorano sul territorio italiano. Da quello che si può vedere, sicuramente per certi tipi di lavori che noi italiani comunque non vogliamo più svolgere, o perché sono faticosi o perché non li reputiamo adeguati, sicuramente in quella fascia di attività gli immigrati ci hanno dato un grosso aiuto, perché altrimenti non avremmo chi fa certo tipo di lavoro. Penso che il mondo sia aperto, la gente è sempre migrata, è sempre andata, noi siamo andati, mio figlio è andato via dall'Italia, c'è chi va, c'è chi viene ed è giusto così. Forse viene fatto poco dallo Stato dal punto di vista dei controlli, delle verifiche. Siccome noi li ospitiamo, gli diamo anche dei soldini e così, dovrebbero lavorare e fare dei piccoli lavoretti per tenere la città molto più pulita e molto più curata.